Bentornati, oggi vi racconto la trama della mia opera preferita del Novecento, Tosca, e ve la racconto nell'unica maniera in cui sono capace di farlo. Male. Tosca ha la dimostrazione che la gelosia fa male. In quest'opera poteva finire tutto bene, potevano cavarsela, ma invece, per colpa di Tosca, muoiono tutti. Ma aiutatemi a dire tutti. L'opera si apre in una chiesa di Roma, nella quale, sfruttando il bonus del 110%, stanno facendo dei lavori. Angelotti, fuggito da Castel Sant'Angelo, si rifugia nella cappella di questa chiesa. Il pittore Mario Cavaradossi è l'amante di Floria Tosca, una famosa cantante. Cavaradossi sa bene che Tosca è di una gelosia malsana e che vede tradimenti e rivali d'amore ovunque. Dovendo quindi dipingere una maddalena, invece che dipingere un volto anonimo, gli sembra che sia un'ideona darle le fattezze dell'avvenente Marchesa Tavanti, che ha intravisto in chiesa nei giorni precedenti. Cavaradossi è un artista e, come tale, è un rivoluzionario per antonomasia. Ovvero, per principio, è contro al potere. Ma non lo disdegna quando gli dà da lavorare. Cavaradossi trova il fuggitivo Angelotti, buonapartista come lui, e gli promette aiuto. Angelotti è il fratello della donna ritratta da Cavaradossi, la quale, per aiutare il fratello nella sua fuga, gli ha lasciato degli abiti femminili e un ventaglio, utilissimo nel caso si fuga da un carcere. Non un'arma, non dei soldi, non una ricarica sul cellulare, un ventaglio. Buono. Il loro dialogo è interrotto dall'arrivo improvviso di Tosca e Cavaradossi fa nascondere Angelotti. Tosca, tanto per cambiare, è convinta che Cavaradossi sia in compagnia di una donna. Perché lo pensa? Perché fuori dalla chiesa, con la porta chiusa, ha udito lesti passi ed un fruscio di vesti. Cioè, da fuori hai sentito un fruscio di vesti? Ma chi sei, la donna bionica? Cavaradossi fa vedere all'isterica che è lì da solo. Ma Tosca, mentre poco convinta se ne sta per andare, vede il ritratto della Maddalena e riconosce in lei le fattezze della Marchesa Tavanti, che lei definisce la civetta, ovvero un modo edulcorato di dire... Riesplode quindi in un'altra scenata di gelosia. Cavaradossi riesce a tranquillizzarla, facendone capire, seppur in belle parole, di essere fondamentalmente una donna insicura, schizofrenica e anche un po' paranoica. Ma che lui l'ama allo stesso. L'estasi ormonale è rinviata a quella sera, nella villa che lui, come tutti i pittori rivoluzionari, possiede. Andata via Tosca, esce dal nascondiglio Angelotti, Cavaradossi gli dà le chiavi della villa e gli spiega che nel pozzo della stessa c'è un nascondiglio formidabile nel quale potrà trovare rifugio. E Angelotti parte. Ora scopriamo che le fake news non sono tipiche solo dei nostri tempi. Giunge infatti la falsa notizia che Napoleone è stato sconfitto. E' ovvio quindi che nella Roma papalina si prepari un tedeum di ringraziamento. Entra all'improvviso Scarpia, capo della polizia papale, è ufficialmente incaricato di essere il cattivo di questa storia. Scarpia, non si sa perché, è convinto che Angelotti si nasconda proprio in quella chiesa. E quella complicità della figura più servile, antipatica e pavida della storia dell'opera lirica, ovvero il sagrestano, vede i suoi sospetti confermati. Nella cappella trova il ventaglio che quel genio della Marchesa Tavanti aveva lasciato per suo fratello Angelotti. Ma un ventaglio qualunque, direte voi, no! Un ventaglio con tanto di stemma, che equivale praticamente a lasciare su una scena del delitto la propria carta di identità. Anche Scarpia nota la maddalena con le sembianze della Marchesa Tavanti, sorella del fuggitivo. Apporato quindi che l'autore del quadro è Cavaradossi, mette insieme i puntini. Cavaradossi, sodale politico di Angelotti, lo ha aiutato nella fuga. Rientra Tosca. La notizia della sconfitta di Napoleone ha provocato dei festeggiamenti a cui lei, famosa cantante, non può sottrarsi. È quindi venuta ad avvisare Cavaradossi che il loro rendezvous carnai di quella sera è e me è saltato. Siccome però non lo trova, non le viene in mente che potrebbe essere andato un attimo in bagno. No, sicuramente la sta tradendo. Scarpia la vede e gli viene in mente che forse può prendere due piccioni con una fava. Impiccare Angelotti e possibilmente anche Cavaradossi e intrufolarsi nelle parti intime di Tosca. Siccome conosce la leggendaria di lei gelosia, getta benzina sul fuoco convincendola che il suo sospetto è reale e lei, che non si chiede come mai il capo della polizia sia così interessato ai suoi problemi sentimentali, esce come una furia per sorprendere Cavaradossi e la supposta amante nella villa. Scarpia la fa seguire da uno scagnozzo. Secondo atto, Tosca arrivata alla villa ha capito che i suoi sospetti erano infondati e che forse è arrivato il momento di farsi curare questa fissazione paranoide di essere costantemente tradita. Cavaradossi le dice la verità su Angelotti e lei parte. Entrano gli scagnozzi, non trovano Angelotti che è ben nascosto e quindi la sfanga e per non tornare a casa a mani vuote arrestano Cavaradossi. Il piano di Scarpia procede, interrogerà Cavaradossi e Tosca per farsi rivelare dove è nascosto il fuggitivo. Arriva Tosca, a cui Cavaradossi si raccomanda di non dire nulla di dove è nascosto Angelotti. I due amanti vengono separati e Cavaradossi viene portato nella stanza più persuasiva di tutto il palazzo, la sala delle torture. Inizia il trattamento ma Cavaradossi non parla. Io... Non vuoi parlare? Non vuoi dirmi proprio niente? Sì. Sei un duro, eh? Sei uno che tiene la bocca chiusa, eh? Perché non parli? Tosca, che sulle prime fa tanto la sussiegosa con Scarpia, alle gride di Cavaradossi si scioglie subito come un ghiacciolo nel microonde, allo scopo di far interrompere la tortura che però, dopo il delay ostinato silenzio, riprende. Da capo! Da capo! Con la consumata furbizia di chi è abituato a essere interrogato in questura, Tosca, davanti a Scarpia, chiede a Cavaradossi il permesso di parlare, richiesto ovviamente che non può che far capire a Scarpia di essere sulla strada giusta. Ma Cavaradossi non molla e la tortura prosegue. Da capo! Da capo! All'ennesimo urlo di dolore del suo amante, Tosca rivela Scarpia dove trovare Angelotti. Cavaradossi viene portato esangue da Tosca e quando si rende conto che lei ha parlato, la prende bene e le lancia una playlist di insulti. Nel frattempo le fake news prima o poi vengono a galla. Si sa quindi che la battaglia che Napoleone si credeva avesse perso in realtà la ha vinta. Ed è la storica battaglia di Marengo. Cattiva notizia per Scarpia ma ottima per Cavaradossi che esulta. Scarpia lo fa portare via dagli sgherri e resta solo con Tosca. Al netto della seccante notizia di Napoleone il suo piano in fondo è a buon punto. Cavaradossi è già nelle sue mani e Angelotti lo sarà presto. Manca solo la ciliegina sulla torta Tosca nel suo talamo. Le fa quindi capire che la salvezza di Cavaradossi dipende solo da lei. E Tosca che non è intelligentissima diciamocelo chiede che somma Scarpia voglia. Scarpia ride e le ricorda che a donna bella non mi vendo a prezzo di moneta. Scarpia però che in fondo è un galantuomo le dice violenza non ti farò e per incoraggiarla a essere un po' più disinibita con lui le fa sentire il rumore del patibolo che stanno costruendo per Cavaradossi. Che la justizia vada a essere principalmente giusta! Dopo un estenuante tiremole durante il quale scopriamo una pudicizia sessuale che non conoscevamo nelle cantanti liriche alla fine Tosca cede e si promette forse sperando che la frase di Scarpia a te chiego un istante sia rivelatrice di una di lui performance non particolarmente duratura. Il patto dunque è fatto di Cavaradossi per salvare le apparenze verrà simulata la fucilazione finita la quale lui e Tosca potranno scappare via con tanto di salvacondotto e anche qui vediamo che Tosca non è un genio perché va bene salvare le apparenze Scarpia gli dice non posso far grazia aperta ma capirete una fucilazione fatta in piena notte e all'interno della prigione non so esattamente quali apparenze possa mai salvare comunque Tosca ci crede appena però Scarpia le si avvicina per riscuotere il pattuito Tosca si rivela non essere una donna di parola e gli pianta un coltello nel petto uccidendolo nel terzo atto Tosca si reca da Cavaradossi per raccontargli ciò che è successo della morte di Scarpia e del salvacondotto che li porterà lontani gli raccomanda però prima di cadere bene durante la fucilazione il pelotone si avvicina e fucila Cavaradossi che cade benissimo talmente bene che Tosca consumata attrice teatrale ma con scarsa dimestichezza con i sotterfuggi umani evidentemente gli fa i complimenti per la caduta ovviamente l'unica a non aver capito che la fucilazione era tutt'altro che simulata è stata lei la quale disperata sul cadavere dell'amante e una volta scoperto il cadavere di Scarpia si suicida gettandosi da Castel Sant'Angelo alla fine sono morti tutti Tosca Scarpia e Cavaradossi ah è morto anche Angelotti che nel frattempo si è suicidato per sottrarsi all'arresto alla fine diciamocelo quest'opera finisce male per colpa delle donne finisce male per colpa di Tosca che a causa della sua gelosia conduce Scarpia alla villa dove Cavaradossi viene arrestato e Angelotti si suiciderà e finisce male a causa di quella volpe della Marchesa Atalanti che lascia il ventaglio con lo stemma di famiglia per far scappare un fuggiasco poi potremmo anche chiederci cosa doveva farci Angelotti con degli abiti da donna e un ventaglio ma vabbè se mi seguite su Facebook e Instagram molto bene ma dovete seguirmi sul canale YouTube perché solo qui trovate tutti i miei contenuti come fare facilissimo cliccate qui se non lo fate verrete condannati a una fucilazione simulata ci vediamo alla prossima trama raccontata male